Il nostro settore è un settore importantissimo, un settore che deve coniugare il design, lo stile, la progettazione, la produzione. Quindi quello che è importante è formare i nostri giovani a 360 gradi. E dopo la soddisfazione avuta con l'ente bilaterale dell'Occhialeria nel 2013, quando è stato siglato il primo accordo con la Regione, a cui è seguito poi nel 2016 il primo di fatto protocollo di intesa, allora ero io presidente di Anfao, mi ricordo di averlo siglato con l'assessore alla formazione della Regione Veneto, la Donna Zanna, non potevamo non continuare con questo progetto. Quindi abbiamo accettato questa ulteriore sfida, un investimento sicuramente importante per l'Anfao perché andremo ad investire 750 mila euro in tre anni, dal 2019 al 2021, ma visto il grande successo, le partecipazioni degli alunni e degli allora inoccupati, che poi di fatto sono diventati occupati con una percentuale di successo oltre il 90%, non potevamo non continuare con questa iniziativa. Grazie